Lo sportello del cittadino sta analizzando a 360 gradi le problematiche, le criticità estreme che riguardano una particolare contrada di Lama Taranto, mi riferisco alla contrada San Domenico e via San Domenico in particolare. Quest'oggi voglio soffermarmi sulla situazione del manto stradale, già da un punto di vista esteriore vedete come è rappezzato perché vi sono stati vari interventi, un po' come un abito di Arlecchino, tante pezze che sono state giuste apposte e quindi abbiamo tutto un manto stradale fatto di dossi e cunette, di avvallamenti. Ma questo per così dire è il male minore perché il manto stradale sta letteralmente sprofondando e tenete presente che al di sotto dello stesso ci sono i canali della fogna centrale. Se consideriamo che qui non dovrebbero transitare i mezzi pesanti, i camion, ma transitano lo stesso perché evidentemente il corpo di polizia municipale nonostante le mille sollecitazioni non interviene, lo dicono i fatti. Dicevo, questo transito sta facendo davvero crollare, sprofondare il manto stradale. Immaginate un manto stradale dissestato, al di sotto un vuoto per i canali della fogna centrale, tutta quest'area sollecitata dal peso non consentito ma che purtroppo è presente dovuto al transito dei camion. Immaginate cosa accadrà, davvero mi sa che qualche giorno noi ci ritroveremo in un vortice, ci ritroveremo in una situazione surreale, ci ritroveremo sprofondati di parecchi metri perché il manto stradale ovviamente avrà ceduto. E' già accaduto in passato, ci sono stati dei crolli e però evidentemente la storia, le esperienze passate non insegnano nulla. Io dico prima ancora di rifare il manto stradale che va rifatto, però facciamo un'opera di prevenzione e vietiamo assolutamente il transito dei mezzi pesanti, dei camion, altrimenti ogni lavoro che viene realizzato, ogni intervento va a vanificarsi perché tu operi il rifacimento della strada, la strada ha un vuoto al di sotto e prima o poi franerà, franerà rovinosamente. Da Lama, Contrada, San Domenico, via San Domenico è tutto. Lo sportello del cittadino vi saluta.